Il senatore Gianni Iuliano che per una manciata di voti non è entrato, almeno ancora, in Consiglio regionale. Infatti è risultato il secondo degli eletti dopo l'exploade dell'assessore di Salerno Enzo Mara. Ecco, come commentiamo il voto del 31 maggio? Ma è un voto innanzitutto positivo per il centrosinistra con trainato da De Luca che ha dimostrato di avere liste competitive e soprattutto un programma credibile, pur con un dato di assenteismo che anche in regione Campania sfiora il 50%. Ecco, che lei come lo valuta? Ma la sfiducia, l'abbiamo detto in campagna elettorale, la sfiducia dell'elettorato soprattutto verso una cattiva politica, politici che più che pensare agli interessi generali pensano agli interessi personali e poi le ultime vicende, compreso la commissione antimafia con Rosi Bindi, certo non hanno favorito un'affluenza alle urne degli elettori. Ecco, per quanto si contiene invece il suo risultato personale, lo ricordiamo un grosso esploade a Mercato Sanseverino dove è risultato il secondo degli eletti dopo il sindaco PD di Fisciano, o meglio l'ex sindaco di Fisciano Tommaso Amabile. Ecco, Mercato Sanseverino, centro pilota della Valle dell'Irno e il centro-sinistra anche li vince nel paese del sindaco nonché assessore regionale di Fratelli d'Italia Giovanni Romano, accusato dal suo collega di Scafati Pasquale Liberti di essere stato l'elemento determinante della sconfitta del centro-destra. Lei lo condivide questa analisi e prima parlavamo del suo esploade personale. Ma non lo condivido affatto. È chiaro che i voti vengono attribuiti anche in base alla conoscenza dei candidati. Se a Mercato Sanseverino il centro-destra non aveva candidati, il centro-sinistra ha presentato due candidati conosciuti come sottoscritto... La correggo, la correggo senatore. Il centro-destra presentava Rosita Pannullo, presidente dell'Unione Consumatori, presentava un altro candidato locale, Costabile Alfieri, poi aveva l'asso nella manica di Forza Italia, Gigi Cascello. Diciamo che Cascello, amico Cascello è di Salerno. Però la moglie è direttore generale del comune di Mercato Sanseverino. Si vota il marito, non la moglie. Rosita Pannullo abita a Fisciano e presi sbagli abita a San Vincenzo. Abita a San Vincenzo adesso, ma forse abita a Fisciano e comunque è di Cava. Mentre il marito è di Giuliano, lo ricordiamo, responsabile regionale della mozione Civati. Quindi il marito PD con la moglie candidata nel centro-destra. E' di Calvanico, quindi diciamo che i candidati della Valle dell'Irno più forti erano io e il sindaco e il Tommaso Amabile. E quindi è chiaro che l'elettorato si indirizza verso un voto più dato alla persona che ha lo schieramento. Quindi non condivido l'analisi di una disfatta del centro-destra a Mercato Sanseverino. Certo, se ci fosse stato un maggior impegno oppure un candidato locale forte, il centro-destra... Ma c'era sostanzialmente la signora Esposito, che è comunque di Castel San Giorgio. Di Castel San Giorgio. Ma Castel San Giorgio non è lontanissimo da Mercato Sanseverino. Ho il suo buon consenso, mi pare che nella sua lista abbia ben figurato, perché sia il terzo o quarto posto. Ecco, no, si sbaglia, al quinto. Senatore, chiudiamo con cose serie. Ecco, la sua posizione personale e soprattutto cosa sarà il futuro della Regione Campania con De Luca Presidente e soprattutto se si insedierà alla luce della legge Severino? Sicuramente si insedierà, perché la legge Severino può scattare soltanto a proclamazione avvenuta, altrimenti non c'è la materia tecnica della sospensione. Se non viene proclamato non può essere sospeso. Questo mi pare evidente. Se voi giornalisti dibattete molto delle volte sul nulla, la verità è che deve essere prima proclamato. Poi si sanno i vari passaggi, il Tribunale informerà la Presidenza del Consiglio per i provvedimenti da adottare e nel frattempo avrà il tempo di nominare Vicepresidente Giunta in attesa poi che ad ottobre, finalmente, poi dice che bisogna essere veloci, solo a ottobre la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità. Insomma, si poteva anche pronunciare a luglio. Ma non era meglio non candidarlo? Chiedo scusa. Lui ha fatto le primarie e le ha vinte. Una volta che ha vinto le primarie, era candidabile. Poi le opportunità sulla candidatura, se fosse stato opportuno candidare un altro, doveva prendere il partito, che per statuto prevede le primarie. Quindi, siccome ha vinto le primarie, è giusto che sia stato lui il candidato e del resto anche ha dimostrato di saper vincere. Cuidiamo con la sua posizione personale. Dicevamo, secondo, primo tenere un elettico, allora Maraio dovesse essere assessore dovrebbe entrare in Consiglio regionale. Ma lei spera anche di entrarci direttamente e come? Ma innanzitutto aspettiamo la proclamazione ufficiale, perché ci sono ancora delle sezioni, soprattutto nel napoletano, non ancora attribuite. Napoli-Ischia. Napoli-Ischia. Ecco, ma questo che cosa significa per lei? Lei è candidato qui a Salerno. Significa che, siccome i seggi vengono attribuiti sulla base del voto regionale, se la Partito Socialista dovesse avere attribuiti dei voti in più, potrebbe scattare un secondo seggio, ma queste di là da venire sono ipotesi. Sull'assessorato, se anche l'ottimo Maraio dovesse essere assessore, non è automatico, perché non è che c'è l'incompatibilità. È una questione di opportunità, però. Può essere questo. Però sono tutte questioni che stanno in mano sia al Presidente che nomina la Giunta, e poi se ci sono gli accordi fra i partiti che prevedano certe cose. Grazie.